La nuova serie di multifunzioni a colori a 3D Ricco è composta da ben 9 modelli con velocità da 30-60 pagine al minuto e assicura efficienza, versatilità, produttività e una qualità di stampa eccellente, ideali per l'utilizzo in ambienti di lavoro polifunzionali. I prodotti sono stati progettati con il concetto del World Style Innovation Technology di Ricco. Cosa significa? Significa che si è stato posto tutto il focus sulle esigenze delle aziende interessate a prodotti in grado di migliorare la propria efficienza e competitività. Con il concetto di World Style Innovation Technology cambia anche il concetto di periferica. La multifunzione a questo punto diventa un hub su cui convergono oppure vengono distribuiti i documenti. Attraverso i processi di stampa i documenti possono essere inviati da un personal computer, da uno strumento smart come tablet o smartphone, da una chiavetta USB, da una memoria SD, direttamente da server oppure da cloud. In un flusso contrario gli stessi documenti cartacei trasformati in digitale possono essere trasferiti anche in questo caso su personal computer, dispositivi smart, server oppure direttamente su un cloud. Quindi gestione documentale a 360 gradi ma semplice, rapida e soprattutto controllata. Vediamo ora alcune caratteristiche distintive della nuova serie. Il nuovo controller basato su processori Intel accelera la stampa e l'acquisizione di documenti complessi e ne diminuisce i tempi di elaborazione. Con questi nuovi multifunzioni a colori la qualità della stampa e delle immagini sorprende sempre grazie alla risoluzione di 1200x1200 dpi reali e alla velocità di stampa che varia dalle 30 alle 60 pagine al minuto. L'utilizzo dei processori Intel garantisce massime prestazioni, efficienza, affidabilità, in sintesi qualità che da sempre contraddistingue i prodotti Rico. Vediamo ora un esempio di prestazioni elevate effettuando una scansione fronte retro a colori su un documento di 10 pagine. Perché hai la qualità Rico e le prestazioni Intel. La gamma è arricchita da una novità unica sul mercato. L'innovativo finisher ibrido da mille fogli con e senza punti metallici è una soluzione all-in-one che assicura risultati professionali. Vediamo come funziona. L'utilizzo del finisher ibrido può essere programmato. Per lavori uguali o inferiore a 5 fogli il sistema utilizza la pinzatura senza punti metallici. Per un numero di pagine superiore a 5 il sistema utilizza la pinzatura classica con i punti metallici. Ecco i risultati. Perché con i sistemi di stampa Rico la qualità dei tuoi documenti sarà insuperabile. I nuovi dispositivi sono dotati di sensore rilevamento presenza che fa accendere la macchina mentre l'utente si avvicina. In questo modo sono sempre pronte all'uso. Il funzionamento è semplice. Si abilita il sensore di rilevamento presenza e lo Smart Operation Panel è pronto e si attiva in un secondo all'arrivo dell'utente. Permette di ridurre i tempi di risposta e l'efficienza dell'ufficio aumenta. I vantaggi? Dispositivi sempre pronti all'uso, l'utente non deve attendere in paziente e la produttività aumenta. Perché il tempo è la risorsa più preziosa che hai. Con i nuovi modelli Rico non perderai nemmeno un secondo. Una delle caratteristiche distintive della nuova gamma multifunzione Rico è sicuramente lo Smart Operation Panel. Un'interfaccia utente, semplice e flessibile in tutto e per tutto simile a uno smartphone o a un tablet. L'ampio schermo touchscreen 10.1 pollici garantisce flessibilità e continuità nella gestione dei flussi di lavoro per ogni tipo di utente. Lo Smart Operation Panel è personalizzabile. Abbiamo la possibilità di spostare, trascinare, nascondere o cestinare icone, widget e applicazioni. E in tema di attenzione per l'ambiente va sottolineato che i valori tech della nuova gamma Rico sono tra i più bassi attualmente presenti sul mercato. Sono anche disponibili dei singoli widget che permettono all'utilizzatore di unire rispetto per l'ambiente al risparmio economico. Perché Smart Operation Panel di Rico è la perfetta sintesi di semplicità d'uso e versatilità. Basta un semplice tocco e il documento è disponibile. Rico introduce un nuovo modo di lavorare con la nuova applicazione Rico Smart Device Connector. Collegare i prodotti Rico con i tuoi Smart Device è semplicissimo. Puoi collegarti a multifunzioni e stampanti tramite Bluetooth o NFC. E connettati ai proiettori con un codice identificativo con QR Code. Anche le lavagne interattive possono essere facilmente collegate tramite QR Code. Non è necessario registrare le informazioni dalla macchina sul tuo Smart Device. La connessione non richiede processi complicati. La comunicazione tra dispositivi diversi avviene in modo semplice. Ad esempio, se hai un documento sul cloud, puoi visualizzarlo dal tuo tablet sulla lavagna interattiva ed aggiungere delle annotazioni e risalvare il documento con le annotazioni sul tuo tablet. Collegare il tuo tablet a una stampante Rico e stampare i documenti con le note è un gioco da ragazzi. Lo stesso documento può essere utilizzato in un meeting. Il documento può essere stampato e fornito ai partecipanti. Può essere riportato dai partecipanti in ufficio e inviato ad altri colleghi tramite la funzione scan to mail, utilizzando la rubrica presente sul tuo tablet. Tutti i prodotti Rico si collegano semplicemente agli Smart Device. I documenti possono essere gestiti centralmente sul cloud e questo ne consente l'utilizzo in diversi ambiti e settori, ovviamente in ufficio, nelle scuole, nell'ambito ospedaliero e anche nei cantieri. Qualunque sia il tuo settore, la tua efficienza aumenterà notevolmente con le soluzioni integrate Rico. Con Smart Device Connector di Rico hai il tuo documento a portata di mano, sempre, dovunque, anche in movimento.